Con l'accusa di peculato, la Guardia di Finanza di Palermo ha dato esecuzione ad un provvedimento di sequestro preventivo emesso dal GIP del Tribunale del Capoluogo per circa 500 mila euro nei confronti di Tony Rizzotto, ex deputato regionale, e di Alessandro Giammona. Avevano sottratto somme di denaro dalle casse dell'ISFORD, l'istituto formativo per disabili e disadattati sociali, ente destinatario di fondi pubblici erogati dalla regione siciliana. L'indagine nasce nel 2017 dopo le denunce di diversi ex dipendenti dell'ISFORD, nelle quali venivano segnalate irregolarità nella gestione delle somme che dovevano essere impiegate per le finalità istituzionali dell'ente, ovvero per l'organizzazione di corsi di formazione a favore di categorie tutelate per l'inserimento nel mondo del lavoro. Dalle indagini è emersa l'effettiva distrazione delle somme da parte dei due accusati, ovvero il presidente dell'ente e il responsabile esterno operazioni. L'ISFORD aveva ricevuto finanziamenti pubblici al Dipartimento regionale dell'istruzione della regione e beneficiato per gli anni dal 2012 al 2015 di fondi stanziati per i progetti dell'avviso 20 e del piano regionale offerta formativa per una montare pari ad oltre un milione e mezzo di euro. Operazioni finanziate anche con fondi europei per i quali vigevano tassativi vincoli di destinazione. Dagli accertamenti svolti alle fiamme gialle è emerso che il Rizzotto ha ricevuto tra il dicembre 2012 e l'agosto 2016, senza averne titolo, la somma di 32.520 euro a mezzo a bonifici bancari assegni tratti sui conti correnti della ISFORD. Ancora più gravi e vistose anomalie sono state riscontrate analizzando il comportamento di Giammona, che potendo utilizzare le credenziali di accesso ai conti correnti dell'istituto di formazione fornitegli da Rizzotto, si era autoliquidato somme per un totale di oltre 456 mila euro negli anni 2013-2017, finalizzata a compensare le prestazioni quale responsabile esterno operazioni, pur in assenza di qualunque rapporto lavorativo formalizzato con l'ente. La gestione dei fondi pubblici da parte dell'ISFORD era stata oggetto negli anni successivi all'erogazione delle somme e dei rilievi, da parte dell'assessorato regionale che a seguito di gravi ed evidenti irregolarità contabile sulle attestazioni dei conti aveva avviato le procedure di revoca dei finanziamenti.